L'ex assessore ormai Sabrina Di Cosimo, dal suo profilo Facebook, manda frecciate e promette querele parlando di calugne. Probabilmente il riferimento è all'articolo di stampa in cui si svela il presunto motivo per cui Biondi l'avrebbe cacciata e cioè un alterco molto acceso avvenuto a novembre ma di cui il sindaco avrebbe saputo solo ora con una dipendente. La situazione però in comune è ancora in alto mare, domani ci sarà un consiglio comunale. La Cisle però intanto chiede alla Di Cosimo di fare chiarezza sul mancato pagamento degli artisti ingaggiati per l'Aquila Suona alla perdonanza e per i cantieri dell'immaginario e anche per i bandi di luci d'artista, le famose luminarie sponsorizzate dalla Camera di Commercio. Bandi accusa Giorgi espletati in pochi giorni con compensi altissimi e soprattutto con una sola ditta che ha risposto. Gianfranco Giorgi rileva queste cose solo a salvaguardia dice dei lavoratori. Decine e decine di artisti non pagati. Per luci d'artista poi a suo giudizio le retroscena sono inaccettabili. 15.000 euro ricorda finanziati dall'amministrazione comunale, 85.000 euro dalla Camera di Commercio con un protocollo reso noto però attacca Giorgi solo a cose fatte. Il Natale Aquilano invece, dice, è stato finanziato dai commercianti che sono in sofferenza come si sa che nonostante tutto hanno voluto offrire qualcosa alla città. Un bando che ha poi tagliato fuori, dice ancora Giorgi, completamente tutte le aziende locali. Giorgi annuncia anche che si metteranno in campo tutte le iniziative per chiedere chiarezza in maniera ufficiale.